Benvenuti agli amici della stampa e di Tutto Patenti. Oggi parliamo di definizioni stradali, classificazione dei veicoli, utenti della strada, doveri del conducente. La strada. La strada è un'area d'uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli. Può essere a senso unico, quindi c'è solo un senso di marcia, o a doppio senso di circolazione. Può essere suddivise in carreggiate da uno spartitraffico. La strada comprende le carreggiate, le corsie, le piste ciclabili, i marciapiedi, le banchine. Carreggiata. E' la parte della strada normalmente destinata ai veicoli e agli animali. Non possono quindi circolare sulla carreggiata i pedoni. Anche la carreggiata può essere a senso unico o a doppio senso. Comprende le corsie, gli attraversamenti ciclabili e pedonali, ma non le piazzole di sosta, le banchine, i marciapiedi, ecc. Corsia. E' una parte della carreggiata con una larghezza sufficiente al transito di una sola fila di veicoli. Quindi non può mai essere per definizione a doppio senso di circolazione, ma può essere attraversata dai pedoni. Nella corsia non possono viaggiare affiancati nemmeno due motocicli o ciclomotori. La corsia può essere specializzata, per esempio le corsie di svolta, può essere di sorpasso per la sosta di emergenza, di accelerazione, serve di mettersi in autostrada o strade extraurbane principali, uscire dalle aree di sosta o di servizio, ed accelerazione per entrare nelle aree di servizio, uscire dall'autostrada o strada extraurbana principale. La corsia viene delimitata da strisce bianche che possono essere continue o discontinue. Intersezione o incrocio a raso. E' l'intersezione tra due o più strade che si incrociano allo stesso livello. Può essere regolata da semaforo e richiede la massima attenzione perché si possono incrociare dei veicoli. Intersezione a livelli sfalsati, invece, è sempre un'intersezione tra due o più strade, ma che avviene a livelli diversi, cioè ad altezze diverse, quindi comprende rampe, sovrappassi o sottopassi. Ovviamente non è regolata da semaforo. Passaggio a livello. E' un incrocio a raso tra una strada ed una linea ferroviaria. Facciamo attenzione perché, essendo a raso, non può avere un cavalcavia o sottopasso. Avvicinandoci al passaggio a livello, troveremo i pannelli distanziometrici posti a 150-150 metri dalla linea ferroviaria. Nelle immediate vicinanze della linea troviamo una luce rossa, mai gialla, che è lampeggiante se il passaggio a livello è con semi-barriere, fissa se il passaggio a livello ha le barriere. È una parte della strada, ma non della carreggiata, normalmente destinata alla sosta dei veicoli, quindi non è messa la circolazione nemmeno dei veicoli lenti. Marciapiede. È una parte della strada, ma non della carreggiata, rialzata o qualunque delimitata, destinata alla circolazione dei pedoni. Può consentire la sosta dei veicoli, ma fatto che ci siano le linee di parcheggio. Attraversamento pedonale. È una parte della strada e anche della carreggiata, destinata al transito dei pedoni che attraversano. Viene segnalato con delle strisce bianche parallele. Sull'attraversamento pedonale è vietato sia fermarsi che sostare ed è obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che attraversano la strada. Passo carrabile. È una zona che permette l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, cortile, garage, eccetera. È segnalato con apposito segnale che arreca il numero di autorizzazione e l'ente che lo ha rilasciato. Davanti al passo carrabile è vietata la sosta, ma è consentita la fermata. Isola di traffico. È una parte della strada, ma non della carreggiata, rialzata o delimitata con zebratura bianca dalla quale è esclusa la circolazione dei veicoli. Serve ad incanalare il traffico in determinate direzioni. Sull'isola di traffico non è ammessa né la fermata né la sosta. Salvagente. È una parte della strada, ma non della carreggiata, rialzata o comunque delimitata, e che serve a facilitare la salita e la discesa dei passeggeri dei mezzi pubblici e al riparo o la sosta dei pedoni che attraversano una strada. Il salvagente può essere segnalato con una colonnina luminosa di colore giallo integrata da un segnale di obbligo di passare da un lato dell'ostacolo. Zona traffico limitato. È un'area in cui la circolazione è consentita, ma solo in determinate fasce orarie oppure solo per certe categorie di veicoli o di utenza. È delimitata da un apposito segnale che ne indica l'inizio e la fine. Nelle zone a traffico limitato di norma non è vietato l'accesso dei pedoni e non viene posto un limite massimo dei veicoli ammessi alla circolazione. Aria pedonale L'area pedonale è un'area riservata alla circolazione dei pedoni nella quale è vietata la circolazione dei veicoli. Possono circolare nell'area pedonale i veicoli di soccorso, polizia, vigili, vigili del fuoco, ambulanze, purché abbiano la luce lampeggiante blu accesa e la sirena in funzione. Possono anche circolare i veicoli elettrici, quelle emissioni zero, a patto che sia espressamente consentito e scritto sul segnale, mentre possono di norma circolare le biciclette. Strada extraurbana principale È una strada a carreggiate separate da sparti traffico, con almeno due corsie per ogni senso di marcia, priva di incroci a raso e dotata di corsie di accelerazione e di decelerazione. È riservata solo ad alcune categorie di veicoli ed è segnalata da apposito segnale di colore blu che ne indicano l'inizio e la fine. Devono avere apposite piazzole di sosta. Generalmente il limite di velocità su strada extraurbana principale è di 110 km all'ora. Autostrade è una strada a carreggiate separate da sparti traffico, con almeno due corsie per ogni senso di marcia, priva di incroci a raso, dotata di corsie di accelerazione e di decelerazione e priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata. Per entrare in autostrada si passa generalmente attraverso un casello, si segue la corsia di accelerazione e ci si mette. È riservata solo ad alcune categorie di veicoli, per esempio è vietata la circolazione di ciclomotori, delle biciclette e delle macchine agricole, ed è segnalata da un apposito segnale di colore verde che ne indica l'inizio e la fine. L'autostrada deve essere recintata e vi possono circolare tra gli altri i motocicli con una cilindrata di almeno 150 cm3. Vi ringraziamo dell'attenzione che ci avete riservato e vi diamo appuntamento alle prossime lezioni, sempre sulla stampa.it